Padovano, mentre prosegue l'interlocuzione con il Governo per quanto riguarda l'annosa questione delle concessioni, voi avete proposto in Abruzzo l'apertura degli stabilimenti 12 mesi all'anno. Perché? Perché riteniamo che quale migliore terapia possono fare i cittadini se non quella di fare eglioterapia al mare, respirare lo iodio, sentire la brezza marina, il vento, il mare d'inverno. Però il mare d'inverno, se noi non lo attrezziamo, rischiamo che i pochi cittadini che lo vogliono frequentare poi ci rinunciano perché non hanno un posto dove potersi mettere seduti o nello stesso tempo farsi un'ora di sole. Su questo abbiamo avuto l'assenso da parte della Regione Abruzzo, in particolare dalla dottoressa Antosa, nonché dalla politica, che questa nostra idea, questo nostro progetto è stato accolto ed è stato messo in piedi, dandoci un limite, mille metri quadri. Chiaramente non abbiamo chiesto che lì dovremmo mettere delle strutture impattanti, ma si tratta di collocare dei tavolini, dei lettini, delle sedie a strada, delle poltroncine, un parco gioco per i bambini. Certo, continuare ad andare anche nel mese di ottobre, novembre, perché no? Ci sono delle belle giornate anche a dicembre, dei bei weekend. Sappiamo che questo non è per noi un grande vantaggio economico, ma lo facciamo perché noi siamo titolari delle congestioni dei Magnali e dobbiamo cercare di consentire a chi usufruisce del nostro territorio dare i servizi essenziali. Quanto riguarda invece la questione concessioni i balneari, si susseguono le proteste, le manifestazioni, ci sono dei passi avanti, Padovano? Le congestioni dei Magnali? Sì, è vero. Hanno bisogno di una riforma, ma la riforma non la deve fare gli stabilimenti i balneari. La riforma la deve fare la politica, lo deve fare il Parlamento e poi lo deve attivare il governo.